Posso offrirti da bere, Abby? Agente Gladwell. Sono nei guai. Tu e i tuoi amici. Siete accusati di furto d'identità. Riciclaggio. E trasporto di beni rubati. Ma io sono qui per proporti un accordo. Ci serve che rubi una cosa. Ok, ragazzi, ascoltatemi. Il prossimo colpo sarà il più grosso di tutti. Forte. Mezzo miliardo in oro verrà trasferito a una cellula terroristica. E quell'oro deve scomparire. Qual è il piano? Lo ruberemo durante il volo. A 12.000 metri. Ruberemo l'aereo? Tutto l'aereo? È difficile rubare mezzo aereo. È impossibile. Non è mai stato fatto prima. Se non lo facciamo, andiamo in galera. Inoltre, salverete delle vite. Ma dai, così non va. Non mi piace per niente il ricatto emotivo. Questo non è un ricatto emotivo. È un ricatto vero e proprio. È come un qualsiasi altro colpo. Dobbiamo mimetizzarci. È troppo? Vuoi somigliare a Gandalf il grigio? Trova un punto debole. Sì! Lo puoi pilotare? Lo scopriremo domani. Dai? No. Se fosse un film sarebbe tipo Ehi, pensiamo a un piano e poi metteremo le mani al centro e faremo tutti... Oh mio Dio! D'accordo. È ora di mostrare al mondo cos'è la vera arte. Tutti in posizione? Via libera. Si va in scena. Si va in scena? Ma dai! Sairus! We're in night! Ci abatteranno! No chiamo arrivare nel camino! Sì! Sì!